Giosuè, capitolo 5. Chiediamo naturalmente al Signore l'unzione su chi parla e su chi ascolta. Giosuè, capitolo 5. Leggeremo pochi versi dal verso 13. Signore benedica la lettura, la meditazione della sua parola ai nostri cuori. Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi, guardò, ed ecco un uomo che gli stava in piedi davanti, con una spada sguainata in mano. Giosuè andò verso di lui e gli disse, sei dei nostri o dei nostri nemici? Ed egli rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Mentre Giosuè era presso Gerico, durante, quindi accadde qualcosa che vedremo con l'aiuto del Signore. Ma dobbiamo un attimo considerare innanzitutto questo uomo, no? La scrittura ci lascia, direi, discreto, dettagliato elenco di quello che è stata la vita di questo uomo. Noi troviamo Giosuè con una fede incrollabile quando, 40 anni prima circa, venne inviato insieme ad altri 11 esploratori, appunto, a visionare il terreno, il luogo di Canaan. Ricordiamo con quanta fede, come posso dire, incoraggiante fede, tornò da quella missione. Insieme a Caleb diedero un dettaglio, certamente, di quelle che erano le difficoltà da affrontare in Canaan a motivo dei giganti. Ma egli, animato da un altro spirito come Caleb, disse, noi possiamo riuscire benissimo, perché Dio è con noi. Perché Dio ci sosterrà. E quindi questo uomo ci parla di quella che è la fede davanti a una situazione futura, di come noi dobbiamo vivere il nostro cammino con il Signore. Animati da questa fede. Il cammino che ci sta davanti certamente non è facile, le difficoltà non sono certamente facili, ci sono i giganti, ma se Dio è per noi, se Dio è con noi, noi riusciremo benissimo. E quindi un uomo che ha esordito, se mi passate l'espressione, in questo modo. Noi sappiamo che a motivo dell'incredulità del popolo, della ribellione del popolo, Dio mutò il suo piano e vi furono lunghi 40 anni di peregrinazione nel deserto, di pellegrinaggio. E Giosuè ha vissuto tutti questi 40 anni, mentre tutta una generazione, una dopo l'altra moriva, questo fu lo scopo di Dio, che quella generazione non avrebbe visto la terra promessa. Ad eccezione di Giosuè, appunto, è Caleb. E quindi Giosuè si è fatto questi 40 anni lunghi, difficili, di deserto, dove ha visto le opere gloriose del Signore insieme alle difficoltà accompagnate, appunto, a una vita nel deserto. L'assenza di acqua, poi il desiderio di carne, al bisogno di un'ombra, al bisogno di un calore notturno, abbiamo detto, all'inizio. E quindi attraversa la dura prova del deserto, dove appunto ha assistito ogni opera miracolosa. Ma Dio aveva provveduto e quindi questo uomo ancora ha perseverato, ha continuato nelle vie del Signore, non si è lasciato perdere d'animo durante questi 40 anni dolorosi. E questo ci insegna ancora a me e a voi che il pellegrinaggio nel deserto non è facile, ma Dio si prende cura di noi. Dio è fedele. Io ti ho fatto provare, dirà Dio al popolo, alla fine di questi 40 anni lunghi, io ti ho fatto provare la sete e poi ti ho dissetato la fame e poi ti ho nutrito. Tu hai camminato scalzo ma il tuo piede non si è consumato. Per insegnarti che cosa? Che devi dipendere da me. Devi dipendere semplicemente da me, perché io sono il Dio che si prende cura della tua vita. Ha dovuto affrontare difficoltà, perché no? Come dicevo, Morali ha visto morire un'intera generazione nel deserto, uno dopo l'altro. Probabilmente amici, compagni di lotta, di avventura. Ha visto morire forse parenti, non lo sappiamo. Ha visto venir meno un'intera generazione. E poi al momento opportuno, direi quasi in modo logico, cercando di ragionare con la mente per quanto ci è possibile, con la mente di Dio, in modo logico Dio lo chiama alla sostituzione di Mosè. Perché chi meglio di lui poteva prendere quel ruolo? Per la sua fedeltà, appunto, per la sua ubbidienza, per la sua costanza, per la sua perseveranza. Ma comunque un impegno notevole. Sostituire colui che era stato il suo maestro, il suo esempio. Prendere il ruolo, perché Dio aveva stabilito che Mosè avrebbe lì terminato il suo servizio. E quindi Dio affida a Giosuè questo incarico, quello di introdurlo nella terra promessa e di guidare il popolo nella conquista della terra promessa. Con una promessa, con una garanzia, che è la mia e la tua questa mattina. Come sono stato con Mosè, io sarò con te. È abbastanza questa garanzia, che dite, fratelli? Gesù ce n'ha fatta una simile, è vero o no? Io sarò con voi tutti i giorni. Tutti i giorni. Quindi compreso quello di oggi, compreso quello di ieri e compreso quello di domani e quelli che verranno e che Dio ci lascerà. Ma comunque una scelta molto, una chiamata molto onerosa. Ed ora finalmente egli si trova di là dal Giordano e davanti a lui quindi un lungo incarico, un oneroso, difficile incarico. E incarico e conquista che prevedeva come prima conquista, scusate la ripetizione, quella di una città non certo facile. Signore, potevamo cominciare con cose più facili. Invece no, proprio l'imponente, l'impenetrabile, gerico, impossibile da vincere, umanamente parlando. Ora noi quando leggiamo, lo dico spesso questo, quando leggiamo alcuni testi della Bibbia, a noi ci risulta facile perché noi conosciamo anche il proseguio, è vero o no? Basta girare qui un capitolo soltanto, vedete? E quindi noi già ci siamo sollevati perché Gerico crollò, le mura di Gerico crollarono, Giosuè l'ha conquistata, il Signore è stato fedele. È facile, tu giri una pagina ma Giosuè quella pagina ancora non l'aveva girata. Noi lo troviamo presso Gerico. Quindi provo a immaginare, io non lavorando troppo di fantasia, quella che poteva essere lo stato d'animo di quest'uomo davanti a questa imponente difficoltà. Presso Gerico, è lì, davanti al suo problema. Da un lato i sentimenti che si mischiano, da un lato la forza di quest'uomo che sa che vuole servire il Signore, sa che con Dio ogni cosa è possibile, ma dall'altro le mura impenetrabili e quindi forse un dubbio, una paura. Da una parte un uomo che certamente non vuole tornare indietro, guai, lo conosciamo Giosuè, ecco perché ho tracciato seppur brevemente il profilo di questo uomo di Dio. Però è un uomo come noi, sottoposto alle nostre stesse passioni, come lo era Elia. E quindi non è difficile questa mattina, senza voler minimamente forzare la parola di Dio, immaginare quello che poteva essere anche il sentimento di un uomo che comunque qualche perplessità di dire Signore, che devo fare, come dovrò io affrontare questa situazione. E si trova lì, da solo, probabilmente da solo, presso quella difficoltà, probabilmente di notte. E fatemi, ripeto, aggiungere questo di fantasia mia. Probabilmente una luna quasi piena, quasi a mostrare nel chiarore di questa notte di luna dove faceva vedere, forse questa difficoltà ancora più imponente, queste mura. Certo non c'erano i fari come noi oggi, se venite a Ferrara vi consiglio di fare una bella gita turistica a Ferrara, è bellissima Ferrara. Non sono pagato dall'azienda turistica, ci mancherebbe. Però se voi circondate le mura di Ferrara, trovate che sono belle illuminate di notte, no? Dei fari ben posizionati ad hoc, proprio per illuminarne, non certo per spaventare in questo caso, ma le mura di Gerico facevano veramente paura. Signore, dobbiamo proprio cominciare da qui. Allora capita a ciascuno di noi, seppur siamo forti nel Signore, seppur certamente vogliamo amare, servire il Signore, seppur abbiamo un passato dove abbiamo visto l'opera di Dio, abbiamo visto la mano del Signore agire nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Fratelli, ma capita per ciascuno di noi che qualche volta ci possiamo trovare presso la nostra Gerico, lì, ai piedi di quelle mura insormontabili. E allora, mentre Egli si trovava in questa situazione, ancora una volta, devo dirlo perché la parola di Dio è piena di questi esempi, Dio non lo lascia solo. Perché scorgiamo in questo testo che mentre Egli era lì, forse pieno con le sue domande, forse a fare i conti con i suoi dubbi, forse a cercare di gestire le sue paure, forse a cercare di comprendere quella che sarebbe stato il giorno dopo. Ripeto, noi lo sappiamo il giorno dopo perché basta girare la pagina e noi troviamo che Dio chiama il popolo, Giosuè, il popolo, a questa ubbidienza, a questo circuire le mura, a questo grido di vittoria che poi faranno crollare le stesse in modo glorioso. Ma noi non siamo arrivati ancora al capitolo 6, ci troviamo ancora in questa notte difficile per Giosuè, in questo momento fragile per la sua vita. Ancora una volta dicevo, il Signore che fa non lo lascia solo, ed è proprio Gesù stesso a presentarsi a lui. Non lo riconosce, no? Proprio perché forse è preso dai suoi dubbi, dalle sue paure, ha bisogno di capire chi è costui che gli sta davanti in maniera autorevole, autoritaria, con una spada sguainata davanti a lui. Allora ha bisogno di capire chi sei. Sei dei nostri o dei nostri nemici? No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Sono arrivato ora e sono arrivato per un motivo preciso. Signore, grazie perché mentre ci troviamo nelle nostre Gerico, davanti a fare i conti con le nostre paure, con i nostri dubbi, con le nostre difficoltà, Signore, quello è proprio il frangente dove tu arrivi ancora una volta, puntuale. E arriva il Signore innanzitutto per non far desistere quest'uomo. Perché a volte noi vediamo gli uomini di Dio, a volte noi vediamo i servi di Dio, perché no, non solo quelli della Bibbia, i servi di Dio come persone che non hanno mai bisogno di affrontare dubbi, difficoltà, a volte paure interiore. A volte li vediamo come uomini indistruttibili, a volte vediamo Abramo come un uomo dalla fede incrolabile. Certamente lo era. Mosè, Giosuè, quanti altri. Ma pur tuttavia questi uomini furono definiti, sono definiti uomini di Dio, proprio perché il Signore era con loro. Proprio perché Dio si prendeva cura di loro. Proprio perché il Signore non ci abbandona e non ci lascia. Allora il Signore arriva al momento opportuno nella mia vita, innanzitutto per dire coraggio. Sono io, sono il capo del Signore, dell'esercito del Signore. Tu non devi certamente mollare ora, Giosuè. Sei stato fedele quando sei stato mandato ad esplorare Cana, sei stato fedele in questi 40 anni. Ora ti ho dato un incarico, Giosuè, ma certamente questo è il momento ancora di tenere fede alla chiamata che io ti ho fatto. All'impegno al quale io ti ho chiamato. Perché a volte realizzi che la tua fede, la tua vita è piccola proprio davanti alla grandezza della prova. Ascoltate, cari del Signore. Dio non ha bisogno di mettere a confronto la mia debolezza con la grandezza della mia prova, della mia difficoltà, per capire quanto io sono piccolo e quanto invece grande è la prova. Dio conosce benissimo i nostri limiti, le nostre difficoltà. Ma a volte ci troviamo proprio davanti a quelle mura, davanti a quella gerico, perché possiamo essere io e voi a capire che siamo poca cosa. E Paolo lo dice quando dice, è proprio nella mia debolezza che Dio mi ha mostrato che io ho capito quanto invece posso essere forte. Perché è nella debolezza che Dio manifesta la sua potenza. Allora non è a caso che Giosuè si trova davanti a quella gerico, non certo perché Dio voleva spaventarlo, non certo perché Dio voleva farlo venir meno. Allora, Signore, perché non gliel'hai fatta bypassare? No, proprio perché Giosuè doveva capire quanto è grande gerico e doveva comprendere quanto lui fosse piccolo, in modo che possa ancora di più confidare nel Signore. C'è un pericolo che l'uomo che non conosce Dio corre e che noi, se permettete, corriamo ancora di più. Cerco di spiegarmi, ci siete ancora? Grazie. Tant'io c'ho culto a pomeriggio alle sei a Sassuolo, c'ho tutto il tempo. L'uomo per natura si sente potente, onnipotente alcuni, è vero o no? È proprio una limitazione umana. Faccio tutto io, sono forte, sono capace. Quando invece non sa che la nostra vita è nelle mani del Signore. Ma dicevo che questo pericolo per noi credenti può aumentare, sapete perché? Perché noi vediamo le opere di Dio nella nostra vita. Dio ci conduce di vittoria in vittoria, Dio compie meraviglie nella nostra vita e quindi noi potremmo ancora di più dire, eh però, così pensava un certo Sansone, no? Che fornito di una forza straordinaria da parte del Signore, si era montato un po' la testa e diceva io, più volte, io ne uscirò come le altre volte. Ora, io e voi, fratelli, abbiamo bisogno ogni giorno di non dimenticare la nostra pochezza, ma per un semplice motivo, perché così facendo ci affidiamo a Colui che è l'Onnipotente. Allora, mentre Giosuè sta facendo i conti, e forse sta facendo delle valutazioni, chi sono io, Signore, davanti a questa città? Come posso affrontare, sconfiggere e penetrare questa città? Che poi ci aprirà il cammino verso altre conquiste in questo territorio. Ma Dio conosceva la debolezza e la pochezza di Gideone, ma il Signore gli dice, notate come si presenta, proprio in questa maniera autorevole, non dice sono il tuo consolatore, certamente sarebbe stato incoraggiante, perché no? Io sono il capo dell'esercito, del Signore. Come a dire, questa battaglia la combatto io per te. Sono io il capo. Sono io il capo e il compitore della tua fede. Sono io che creo la fede e la rendo perfetta. Quindi la tua fede si deve poggiare su di me. Fratelli, non è per la grandezza della nostra fede che noi sconfiggiamo Gerico. Anzi, Gesù ha detto che se avessimo fede quanto? Un granel di senepe. Sai, basta avere fede. Non basta avere fede. Perché ci sono persone che hanno un'immensa fede in qualche santo, così definito dalla Chiesa. La loro fede è enorme. Ma non è la grandezza della fede. È la grandezza della persona in cui la fede è riposta. Perché se io metto fede in una persona, per quanto la mia fede può essere grande, ma quella persona se non può nulla, non può nulla. Se invece la mia e la tua fede è piccola, ma è riposta in colui che può ogni cosa. Dio sa che siamo insufficienti. Dio sa che vengono momenti in cui siamo forse, perché no, tentati di tornare indietro. Stavo bene di là dal Giordano. Credo che ho fatto il massimo che potevo fare. Quarant'anni nel deserto. Sono opposto, Signore. Ma il Signore aveva un piano per Giosuè. E quindi il capo dell'esercito, del Signore, si presenta lì proprio per dire che deve continuare. Ma si presenta lì per mostrargli che Egli è lì Dio dell'impossibile. Se io vi chiedessi stamattina quanti di noi sanno teologia, teologie, no? Ti insegnano questa la scuola di teologia. Gli attributi assoluti di Dio. Tra i quali vi è l'onnipotenza di Dio. Sì o no? È chiaro, siamo evangelici, abbiamo studiato la Bibbia. Noi tutti sappiamo che Dio può ogni cosa. Sì o no? È su questo. Domanda di esame passata. Dio è onnipotente. Però poi, quando si tratta di credere questo nelle nostre difficoltà, nei nostri bisogni, quando c'è un aggerico davanti a noi, allora tutta quella sicurezza teologica poi o si tramuta in fede certa o non ne usciamo fuori. Noi sappiamo che Dio è più grande di noi. Ma quante volte questo, a volte, rischia di non bastare? Perché la difficoltà che vediamo davanti ci sembra troppo grande. E allora è lì che il Signore interviene, è lì che il Signore ancora ci viene a fianco, è lì che il Signore ci dice che Egli può ogni cosa. Faccio un passo indietro. Il Signore aveva fatto una promessa ad Abramo. E questa promessa non si realizzava nei tempi che lui e sua moglie Sara avevano stabilito. Quindi sono una coppia che certamente credono nell'Idio di Israele, nell'Idio potente, nell'Idio che può ogni cosa. E a un certo punto la scrittura ci dice che Sara si mise a ridere di quella rinnovata promessa. E dubitò. Una donna che conosceva la potenza di Dio in realtà nella sua difficoltà dubitò. E non è questa un'accusa a Sara perché quante volte io e voi forse dubitiamo. E il Signore rivolge una domanda ben precisa in quel contesto. La ricordate? Vi è forse qualcosa di troppo difficile per me? Ora questa domanda il Signore la ripone a noi questa mattina. Mentre ci troviamo presso Gerico c'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Sapete che cosa dirà il Signore se giro pagina a Giosuè? Vedi? Vedi? Io do in tua mano Gerico il suo re i suoi prodi guerrieri. Io do questa Gerico che fino a questo momento ti ha fatto paura ti ha fatto forse spaventare o forse ti ha fatto riflettere non lo so se fosse particolarmente spaventato ma certamente il suo cuore aveva bisogno di un rinnovo di questa garanzia del fatto che il Signore è colui che dà la vittoria. il Signore è colui che ci dona ogni cosa in Lui. Ora a differenza dei grandi miracoli che Giosuè aveva già visto quante opere Giosuè aveva visto? Giosuè era passato per il Mar Rosso vi ricordate? Giosuè era passato per il Giordano anche quindi non solo il Mar Rosso ha visto ripetuto lo stesso miracolo perché Dio è lo stesso ieri oggi è in eterno ma dicevo a differenza dei grandi miracoli che Giosuè aveva già visto questa situazione ora è diversa perché ha a che fare e riguarda personalmente il suo di problema è lì da solo davanti a Gerico perché arriva il giorno in cui fratelli per me per voi in cui dopo aver visto le grandi opere che Dio ha compiuto in mezzo al suo popolo è il momento di realizzare io e voi che Lui è lì Dio dell'impossibile per noi per la nostra difficoltà per il nostro bisogno per quella richiesta che forse stai presentando al Signore da diverso tempo da diversi anni voglio concludere il Signore raggiunse Giosuè in questo momento particolare non so se definirlo questa mattina questo momento per Giosuè come posso dire un nuovo punto di svolto uno spartiacono tra un periodo del passato nel deserto un periodo nuovo di conquista certamente un punto importante ripeto dove da solo davanti a questa città si trova a fare le sue valutazioni i suoi conti il Signore arriva lo incoraggia gli dimostra ancora che egli è lì Dio dell'impossibile e infine dicevo è non trascurabile come aspetto in ultimo ma non meno importante che la vittoria passa sempre per una vita di consacrazione togliti i calzari chissà forse l'aveva sentita già questa affermazione perché Moseglia l'aveva forse chissà raccontata togliti i calzari dai piedi perché il luogo dove stai è santo ora perché la vittoria passa sempre per la consacrazione perché la consacrazione è il primo passo dell'ubbidienza a Dio la consacrazione è il desiderio e l'impegno di togliere dalla nostra vita tutto ciò che non è gradito a Dio la consacrazione significa metterci da parte per il Signore sì o no fratelli e metterci da parte per il Signore implica per forza il fidarci di Lui o no io non mi deono a qualcuno se non mi fido prima è vero o no se mi dono al Signore per servirlo per consacrarmi per fare la sua volontà per ubbidire la sua parola se io e voi ci doniamo al Signore perché consacrato santo significa proprio appartato se noi ci appartiamo per il Signore è perché ci fidiamo di Lui sì o no abbiamo piena certezza che Egli è il Dio dell'impossibile che Egli si prenderà cura della nostra vita e se noi ci fidiamo del Signore vedete come è una conseguenza poi ancora aggiuntiva se noi ci fidiamo del Signore abbiamo fede in Lui allora la fede ci fa ottenere le vittorie quindi è naturale che la consacrazione è la via alla vittoria altrimenti scadiamo in un in un cristianesimo immaturo che pensa e pretende che Dio ci debba rispondere ogni qual volta un vento soffia contrario e noi andiamo a Dio solo per gridare a Lui quando difficoltà sopraggiungono improvvise noi non vogliamo essere di questi credenti tante volte Dio comunque ci libera e ci tira fuori perché è buono perché spera che impariamo e si augura che noi impariamo la lezione ma non deve essere così la vita del credente chi è consacrato cammina di vittoria in vittoria perché è imparato che la sua vita dipende dal Signore e quindi sa che la sua vita è nelle mani di Dio qualunque cosa avvenga e sa per certo perché ama il Signore che tutte le cose coprono al suo bene perché tutte le cose coprono al bene non per tutti ma per quelli che amano il Signore per quelli che sono consacrati e quindi una vita di consacrazione significa che si fida del Signore e allora se tutti i fidi del Signore le mura di Gerico possono crollare il punto della risoluzione di quel problema di cui stiamo parlando era proprio la consacrazione di Giosuè che il Signore gli richiede consacrazione che poi lo avrebbe portato a fidarsi del Signore e ad agire secondo la volontà del Signore e così farà Giosuè che devo fare Signore un giorno fai un giro poi per sei giorni farai così il settimo giorno farai sette giri perché questa cosa assurda perché forse mentre noi giriamo indeboliamo il terreno forse spaventiamo il nemico perché tutta questa spiegazione non lo so fratelli una motivazione c'è ubbidienza alla parola di Dio tu fai come Dio ti dice togliti i calzari e Giosuè fece così fai il giro di Gerico e Giosuè fece così si fidava del Signore e allora la fiducia che è il risultato di una consacrazione totale poi ci porta a realizzare la vittoria in Cristo Gesù e quelle mura crollarono potete leggere a caso ma conosciamo bene tutti credo il proseguio del del testo dobbiamo fidarci del Signore la possiamo dire una nota negativa in questo testo la città dopo Gerico da conquistare era molto più piccola anche il nome piccolissimo che qualcuno poi ci ha fatto pure la battuta ai perché le hanno prese sonoramente lì no quindi ai che male perché perché ormai ho imparato il segreto non ho imparato il segreto fratello o meglio il segreto è dipendere dal Signore senza di me ha detto Gesù voi non potete fare nulla quindi Giosuè aveva certamente vissuto esperienze particolari lo zelo che lo animò fin da principio così come siamo stati animati noi da un grande zelo è vero o no quando il Signore ci ha salvati lo zelo l'entusiasmo mi auguro ci sia ancora fratelli sorelle se non c'è chiedilo al Signore quello zelo quell'entusiasmo la fedeltà di questo uomo che per 40 anni ha servito il Signore come servo di Mosè come spalla destra se possiamo così definirla in questo cammino difficile la risposta pronta alla onorevole chiamata di Dio a sostituire appunto Mosè ma giunse anche per lui il momento in cui si ritrovò presso Gerico dove dovette fermarsi e realizzare sperimentare l'intervento del Signore mentre egli era a Gerico fratello sorella mentre ti trovi nella tua difficoltà Gesù è lì mentre la stai affrontando mentre la stai vivendo Gesù è lì non sei da solo da sola perché Gesù puntualmente lo raggiunse per dare a lui ancora quel nuovo vigore per confermare che ogni cosa sarebbe stata possibile non per la capacità di Giosuè ma per la potenza di Dio il quale fa crollare se vuole in un attimo qualsiasi muro qualsiasi difficoltà Gesù dovette riprendere i discepoli quando disperati perché stavano affondando ricordate no? Gesù arrivò calmò il mare placò la tempesta ma poi disse loro perché avete paura signore perché è normale aver paura se sto morendo poteva essere questa la risposta signore chi non avrebbe paura quando la propria vita sta andando alla deriva e rischiamo veramente di affondare perché avete paura voi avete me non disse proprio così però quello voleva dire perché avete paura o gente di poca fede se avete fede in me non vi spaventerà nemmeno un mare in tempesta se avete fede in me non avrete paura nemmeno quando vi troverete davanti a una gerico insormontabile consacrati ubbidisci sii fedele e io ti condurrò di vittoria in vittoria vogliamo alzarci in piedi e chinare i nostri capi grazie signore mentre era presso genio